ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò vedere questo set di morsetti composto da 16 pezzi della parkside che troverete in vendita dal giorno 26 maggio 2022 a costo di 11 euro e 99 questo l'ho comprato uno o due anni fa all'interno troviamo diversi accessori e ora vedremo sia cosa sono cosa troviamo che come si utilizzano quindi mettiamoli sul bancone e guardiamoli da vicino iniziamo e allora questa è quindi la confezione con cui vengono venduti una valigetta semi rigida avvolta da un cartone troviamo l'illustrazione alcuni disegni quindi la foto del contenuto e nella parte posteriore troviamo una rapida descrizione scusate se malandata anche se l'ho utilizzato due o tre volte però la confezione si è rovinata quindi dalla descrizione vediamo che sono dei morsetti rapidi per afferrare tenere fermi i pezzi da lavorare il robusta custodia in plastica 16 pezzi in totale quindi due morsetti a chiusura rapida il classico morsetto ad una mano tre mini morsetti a vita con tre misure differenti quindi da 25 millimetri 50 mm e 75 mm di apertura massima un supporto magnetico per mini morsetto a vite e 10 morsetti a molla di cui otto pezzi da 58 mm e due pezzi da 85 mm quindi togliamo questo incarto e guardiamo il contenuto della valigetta effettivamente questa valigetta è parecchio rigida rispetto a molte altre valigette che devono contenere oggetti più delicati questa volta hanno abbondato con la robustezza allora all'interno troviamo i piccoli morsetti a molla sono otto morsetti di piccole dimensione più due leggermente più grandi ma comunque di dimensioni ridotte tutto prodotto dalla o da questa parte troviamo questi morsetti a vita si utilizzano sia per stringere fra di loro dei pezzi che per tenere dei pezzi in posizione dritta ora vi farò vedere come abbiamo i due morsetti ad una mano ormai classici morsetti mi avete visto utilizzare tantissime volte sono piccoli tutto è di dimensioni piccole quindi serve semplicemente per tenere fermi pezzi che non abbiano dimensioni abbondanti partiamo da quelli in metallo che ci servono a stringere pezzi tramite questa vita allora quello che vi dirò di questa ovviamente si riferisce anche ai modelli più piccoli quello che cambia solamente l'apertura massima questo è da 75 mm abbiamo questa vita svitando da questa parte troviamo questo piolino che si può fare scorrere da una o dall'altra parte e questa parte che si adatta ad eventuali irregolarità dei pezzi che dobbiamo stringere sia in regolarità che eventuali pezzi che abbiano delle inclinazioni con un angolo però limitato allora questo va utilizzato per tenere fermi i pezzi su quali dobbiamo lavorare oppure tenere uniti fra di loro dei pezzi che dobbiamo incollare questi sono quelli che ci permettono di applicare più forza rispetto agli altri perché avvitando ovviamente stringeremo e decideremo quale forza dobbiamo applicare sul pezzo da stringere per evitare di segnare le superfici si possono utilizzare dei pezzetti di legno da mettere tra questa parte e il pezzo che dobbiamo stringere altrimenti se si tratta di materiale morbido potrebbe segnarsi allora facciamo subito un esempio rapidissimo potrezziamo che questo sia il nostro piano di lavoro aprendo questa vita quindi allargando l'apertura di questo morsetto possiamo stringere i pezzi e tenerli fermi sul nostro piano di lavoro ovviamente con una mano non mi viene semplicissimo allora in questo modo possiamo stringere il pezzo se questo fosse il nostro piano di lavoro potremmo tagliarlo forarlo insomma lavorare sul pezzo avendo una terza mano che ci tene fermo appunto il pezzo in lavorazione oppure se dovessimo incollarli dopo aver applicato la colla questo ci permetterebbe di mantenerlo ben stretto e fare in modo che la colla aderisca abbiamo però un accessorio che ci permette di utilizzare questi morsetti come vedete si è segnato se avessi utilizzato un pezzetto di legno un cartone qualunque altra cosa il segno sarebbe stato meno evidente quindi sia sul piano di lavoro sui pezzi di lavorazione cercate di proteggerlo allora quello che rende curioso questo set almeno dai commenti nei vari social network e questo misterioso pezzo sembra una torta a fette da ma serve a mantenere questi morsetti in posizione allora guardate su ogni triangolino sono riportate le misure quindi 75 mm 50 mm e 25 mm e accanto ad ogni misura c'è una freccetta che ci indica in quale spazio va inserito il morsetto l'unico morsetto però che può essere tenuto in posizione in qualunque posizione venga messo è quello da 75 mm quindi qua abbiamo la freccetta che ci indica la misura corrispondente e come vedete riusciamo a tenerlo in posizione sia così così oppure così allora se devo essere sincero però questo accessorio non l'ho mai utilizzato non mi è mai tornato utile possibilmente per qualche applicazione potrà tornare utile ma io finora non ho avuto necessità e tra l'altro i morsetti più piccoli quindi sia quello da 25 quello da 50 mm rimangono in posizione solo se messi in posizione sdraiata in questo modo non riusciamo a mantenerli nella loro posizione sia questo che l'altro adesso guardiamo gli altri accessori troviamo anche i morsetti ad una mano i classici morsetti rapidi che ci permettono anche in questo caso di tenere dei pezzi fra di loro ben stretti sia nel caso in cui dobbiamo incollarli che nel caso in cui dobbiamo per esempio tagliarli eccetera però sono dei morsetti piccoli vanno utilizzato più che altro come ho detto poco fa per incollare qualcosa non pretendete tantissimo anche perché questa parte se stringete con molta forza si rompe allora per poter restringere sarà sufficiente premere questa parte come vedete si vanno avvicinando questi due pezzi e ci consentono di stringere le due parti di colore rosso si possono togliere ed è possibile utilizzarli anche come morsetti per allargare quindi togliendo questa vite possiamo girare questo metterlo da questa parte riavvitare ed in questo caso utilizzarlo per allargare ci sono delle applicazioni nelle quali per esempio dobbiamo scollare qualcosa dobbiamo tenere dei pezzi distanti fra di loro ad una distanza prestabilita e questo ci permette quindi di utilizzarlo anche in questo modo sia uno che l'altro tra l'altro questi fori ci permettono tramite un accessorio che possiamo auto costruire di estenderli quindi basterà realizzare acquistare un accessorio che ci permette di unire queste due parti sfruttando appunto questi due fori per avere un morsetto più grande guardiamo ora invece i piccoli morsetti a molla non mi ricordo se vi ho detto che però questa base è magnetica non ha tantissima forza però può essere utilizzato per tenere comunque questa parte su alcune superfici metalliche allora guardiamo quindi i morsetti a molla ne abbiamo di due misure quindi questi piccoli e questi un pochettino più grandi sono distribuiti secondo me male io avrei preferito dato che sono 10 pezzi e venne magari sei piccoli e quattro grandi o viceversa invece ne hanno messi solamente due di questi grandi guardiamo come sono fatti allora hanno questa impugnatura nella parte posteriore non gommata quindi c'è il rischio che possa scivolarci mentre singiamo e in questo caso fate attenzione alle dita perché se lo tenete in questo modo quando si richiude ovviamente di pizzicare alle dita sinceramente fa molto male quindi va impugnato in questo modo ecco vedete mi sono fatto male da questa parte perché mi è scivolato involontariamente quindi mi sono colpito l'unghio e vi assicuro che ho appena visto le stelle quindi va stretto in questo modo è questa parte mobile ci permette anche in questo caso di adattarsi ai regolarità delle superfici ma soprattutto di adattarsi all'apertura perché come vedete in questo modo sono perfettamente parallele più allarghiamo più cambia l'angolo e di conseguenza non saranno più parallele se fossero fisse per esempio per stringere questo pezzo come vedete toccheremmo solo con i due angoli invece dato che sono mobili si adattano e diventano di nuovo parallele ci permettono di stringere in modo corretto e non ci richiedono nemmeno di essere molto precisi possiamo posizionarli in questo modo o in questo modo i due pezzi saranno sempre paralleli fra di loro la costruzione non è robustissima perché questo tipo di morsetto non richiede molta robustezza in diversi tipi anche di altre marche sia della parkside che di altre marche queste non mi ricordo se l'ho presa in qualche brico sono un pochettino più robusti hanno lo stesso sistema quindi che ci permette di adattare ai vari angoli non diversi anche wolfcraft oppure stalle guardate c'è una piccola differenza che non salta subito all'occhio ed è questa parte dentellata cosa serve allora facciamo subito una prova per vedere quindi a cosa serve questa parte segretata utilizziamo questo pezzo di tubo metallico se noi volessimo fissare questo pezzo di tessuto utilizzando un morsetto di questa dimensione non riusciremo a fissarlo come vedete si muove e c'è la possibilità che tirando si sfili quindi sicuramente non abbiamo una buona tenuta utilizzando un morsetto più piccolo che però non abbia questa dentellatura avremo la stessa situazione quindi come vedete non avremo nulla che stringe da questa parte comunque non in modo saldo invece utilizzando i morsetti con questa dentellatura ovviamente che abbiano la misura adeguata questi qua per esempio riusciamo a stringere senza nessun problema guardate la parte dentellata va a premere esattamente sul tessuto e ci permette di avere una buona tenuta quindi utilizzando questa parte dentellata riusciamo ad avere una tenuta maggiore perché il tessuto non scivola poi se anziché utilizzare un pezzo in metallo come questo per esempio utilizziamo qualcosa in legno in plastica sicuramente alla tenuta è ancora maggiore è la stessa cosa se vogliamo tenere per esempio in questo caso una cordina attorno a un pezzo tubolare o anche un pezzo quadrato se utilizziamo un morsetto come questo avremo difficoltà non riusciremo a tenerlo fermo se invece utilizziamo un morsetto con questa dentellatura se invece utilizziamo un morsetto con questa dentellatura avremo una tenuta molto più salda guardate anche tirando rimane nella sua posizione quindi molto indicati per diversi utilizzi nei quali dobbiamo fare proprio presa con questa parte e ovviamente possono essere utilizzati anche in questo caso per tenere fermi dei pezzi per esempio per farci un'idea della posizione che devono avere oppure per incollarli fra di loro possiamo utilizzare sia questa parte che volendo anche la parte con la dentellatura quindi possiamo utilizzare sia questa parte che questa parte però purtroppo non avendo questa parte gommata c'è il rischio che scivolino vedete non riesco in questo modo a stringere per bene bisogna sarebbe stato molto credito se ci fosse stato un minimo di gomma per avere un pochettino di per esempio comunque questo è il loro funzionamento e nella parte centrale hanno questa piccola rientranza che possa arrivare diversi utilizzi uno di quelli che ritengo più utili è quello che ci permette di tenere fermo per esempio un pezzo cilindrico posizionandone esattamente al centro di questa scanalatura e come vedete rimane fermo nella sua posizione se fosse stato liscio sarebbe scivolato via abbiamo la possibilità di quindi regolare spostare senza avere la paura che lo stesso scivoli via e quindi possiamo regolare in modo agevole la posizione dello stesso anche in questo caso ovviamente non pretendete di avere chissà quale tenuta ci permette di tenere posizione dei piccoli pezzi nei quali fare dei lavori che non siano gravosi un morsetto invece che non abbia la scanalatura come l'altro muovendoci come vedete alla fine lo fa volare via e allora ragazzi quindi cosa dire di questi morsetti della parkside un set da 16 pezzi che costa 12 euro sono effettivamente dei morsetti economici servono come ho detto durante tutto il video per tenere fermi dei pezzi che non siano grandi e comunque se non dobbiamo fare dei lavori gravosi qualcosa che dobbiamo incollare qualcosa che dobbiamo forare tagliare eccetera quindi vale la pena di acquistare questi morsetti sì se non avete pretese di farci chissà che cosa invece l'accessorio magnetico personalmente non ho trovato un utilizzo vero e proprio almeno io personalmente non l'ho mai utilizzato però può tornare utile cosa dire spero più che altro di questo video vi sia piaciuto semplicemente per conoscere questo set io l'ho acquistato ed effettivamente per quelle volte che l'ho utilizzato per tenere fermo qualcosa ha funzionato vi lascio il link in descrizione eventualmente di qualcosa di simile da trovare su amazon fatemi sapere con i commenti se vi è piaciuto ed eventualmente se vi va iscrivetevi cliccate anche su quella campanella qua giù dopo esservi iscritti cliccate sul tastino mi piace servito mi è piaciuto e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto